E' l'ultima giornata per le under 17 Lega Pro Milan Inter, ci si gioca ai derby nerazzurri che però sono già certi del primo posto visto che è il vantaggio al calcio d'inizio su Renate di ben 5 punti. Il primo pallone che viene toccato dal Milan ma le prime occasioni sono tutte nerazzurre tranne questa con Coltro che allontana il pallone giocato in mezzo poi la mette fuori anche Bettella raccoglie Finessi che calcia con il destro, pallone che termina lontano dalla porta. Difesa da Tamma dell'Inpoi praticamente solo Inter, Gavioli va al cross sul secondo palo della Vedova, la mette fuori poi un rimpallo favorisce Visconti dopo questo pallone ributtato su controllo di Visconti va sul sinistro, calcia in diagonale, para Zanellato senza problemi ancora Inter che attacca con la sponda di Adorante. Poi l'apertura verso Nukuri che controlla, riguarda in mezzo, prova a rientrare poi calcia con il destro a giro, Zanellato ancora in calcio d'angolo, Nukuri grande protagonista, rientra ancora partendo questa volta dalla corsia Mancina, appoggia poi verso Pelle, un rimpallo fa arrivare il pallone dalle parti di Visconti, pallone deviato ancora una volta Zanellato in calcio d'angolo, sempre Inter, Nukuri appoggia in mezzo per Visconti, un rimpallo fa arrivare il pallone dalle parti di Adorante che è bravissimo ad andare via in dribbling, salta due uomini e poi da esterno destro batte l'uscita di Zanellato, Inter 1, Milan 0, Nerazzurri dunque avanti con questo bel tocco delicato del numero 9. Ancora Inter protagonista è tutto, parte sempre da Nukuri, Visconti può entrare in area, carica a sinistro, Zanellato chiude sul suo palo mettendo il pallone in calcio d'angolo, nel secondo tempo sempre Inter, Gavioli allarga per Nukuri che se ne va sulla destra, attacca il lato corto dell'area di rigore, cerca il cross, anticipato Visconti da Zanellato per poco, poi il Milan non sbaglia perché Zanellato regala il pallone d'Adorante, cerca il cross in mezzo, viene anticipato il numero 10 pelle, da lì Inter che non riesce a trovare dunque il gol del 2 a 0, un Inter che insiste e sfiora il raddoppio ma coltro praticamente da 0 metri di testa, non inquadra lo specchio, è solo però l'anticipo del gol del 2 a 0 perché Tamma sul rilancio lungo pesca la sponda di Adorante, Visconti appoggia per Nukuri che a porta vuota mette dentro il gol del 2 a 0 Inter, Nukuri dopo aver creato tante occasioni, finalizza il bell'assist di Visconti, bravo e soprattutto altruista a servire all'inserimento del numero 7, 2 a 0 Inter, 2 a 0 ampiamente meritato, poi pelle ci prova da fermo, c'è tanto vento ma la traiettoria non si abbassa, si rimane sul 2 a 0 per il primo vero tentativo del Milan, bisogna aspettare il destro di Chiareme Tang che non trova però lo specchio della porta, ancora Milan che ci prova con Torchio dopo che Bettella allontana, solo per un attimo, il pallone rimbalza davanti a Tamma, costretto alla calcio d'angolo, sempre da fermo, ci riprova l'Inter, Esposito entrato nella ripresa, non trova per poco lo specchio della porta, poi ancora Chiareme Tang su servizio di Fabozzi, da posizione troppo defilata, cerca il destro ma trova solo l'esterno della rete, l'ultima occasione è per l'Inter che va vicinissima anche al gol del 3 a 0, Esposito gioco di gambe, va sul sinistro, viene murato, il pallone diventa buono per Visconti che vede il portiere fuori dai pali, tocco sotto, traversa piena, allora Inter che sfiera il gol del 3 a 0 ma vince comunque 2 a 0 in casa del Milan e chiude il proprio girone al primo posto.